Buonasera a tutti, inizio ringraziando e salutando tutti i presenti. Ringrazio perché è stata scelta la parte rosa come location per la firma di questo importante protocollo di intesa tra la regione Marche, Slow Food Italia e il Slow Food regionale delle Marche. La patroia onorata di Iacolle, vicepresidente della regione Mirko Carloni, Vincenzo Maidani, il presidente di Slow Food Market e oggi rappresenta anche Slow Food Italia perché il vicepresidente nazionale ha avuto un controtempo. Tra l'altro i colleghi sindaci e tutti i presenti, anche quelli che sono in ascolto sui canali social. Dicevo onorati di accogliere oggi questa firma in quanto Fraterosa è stata scelta perché è l'unico ad oggi presidio Slow Food di questa provincia con il suo prodotto di punta che è la Fava di Fraterosa. Un percorso cominciato da più di 20 anni fa, ormai, di ricopro di questo prodotto e nei minuti siamo riusciti a arrivare anche al riconoscimento del presidio grazie al lavoro svolto soprattutto dagli operatori sul campo, i vari agricoltori, i custodi che sono stati anche selezionati anche grazie ad una legge regionale per quanto riguarda la biodiversità. Quindi ecco ringraziando di nuovo la regione Marche, la persona del vicepresidente Carloni e quindi ecco cedo magari la parola per l'illustrazione di questo protocollo. Grazie al dottor Cicoli. Buonasera a tutti. Grazie al sindaco e al comune per questa ospitalità. E' comunque sia un momento importante questo un po' della firma che facciamo periodicamente con Slow Food Mark perché segna comunque un particolare momento di condivisione di percorsi che sono estremamente importanti per giungere a quella valorizzazione di quelle produzioni nostre che sono fortemente legate al territorio e che quindi hanno questa necessità di essere ulteriormente valorizzate. Per cui la collaborazione che è tra regione Marche e Slow Food è una collaborazione che ormai va avanti da anni io sono diversi anni che seguo questo settore e si sono fatte tante bellissime cose insieme. C'è anche una forte attenzione da questo punto di vista a che possono anche aumentare i presidi perché ci sono tanti altri prodotti in questa regione, tante altre produzioni di nicchia estremamente importanti, estremamente interessanti. Ecco, penso che dal protocollo, da questa volontà, che ulteriormente si esprime da parte della regione Marche attraverso questo protocollo che è una durata triennale, possa questo rappresentare un ulteriore stimolo per continuare a camminare su questa strada della valorizzazione delle produzioni tipiche e di nicchia di questa nostra regione. Grazie. Buonasera a tutti, io rappresento qui il locut Marche e anche il locut di Italia, come ha detto precedentemente il sindaco e il mio primo atto formale come presidente, sono entrato in carica a maggio di quest'anno con un nuovo comitato esecutivo regionale. Credo, intanto vorrei ringraziare sia il sindaco che il vice sindaco di Fatterosa che ci hanno ospitato in questa sede nella mia provincia, perché io sono di Cagli e quindi sono qui vicino. Credo che, ecco, di essere pritenuti un soggetto qualificato che appunto può interagire con la regione sia un risultato, non tanto dovuto a me ovviamente, non ho questa presunzione che sono qui da maggio, ma di un percorso che se lo fu da fatto nel corso di questi ultimi 30 anni. Un percorso che è fatto, come diceva anche Cecconi prima, da una organizzazione multilivella che noi abbiamo, che ci consente di essere molto legati al territorio. Qui abbiamo anche Rodolfo, Rodotelli, che ormai è uno dei nostri da tanti anni, è un contadino che è molto legato al proprio territorio, però abbiamo anche una dimensione multilivella, come dicevo prima, che ci consente di essere degli interlocutori qualificati con vari soggetti che, come in questo caso, possono programmare, progettare delle politiche a livello regionale, a livello nazionale ed anche a livello internazionale. Da alcuni anni abbiamo aperto unificio anche a Quixelle, che facciamo lobby, no? Come si dice in questi casi. Credo, a cui cito il vicepresidente delle regioni, nel suo articolo che è uscito un po' di tempo fa, sul tema del cibo e sono molto d'accordo con lui, che quando parliamo del cibo non parliamo che non possiamo parlare solamente di nutrizione o di valori, diciamo, economici, ma dobbiamo necessariamente parlare di un prodotto che ha una serie di elementi ulteriori e non meno importanti, che sono legati alle comunità, alla socialità, alla cultura, all'etica e quindi, in questo caso, anche riprendendo Papa Francesco, comunque, e anche quello che diceva Pagliel Petrini, appunto, nell'introduzione dei suoi libri, dobbiamo riprendere in mano il cibo come un elemento che riguarda le comunità che abitano nei territori. Come dicevo prima Rodolfo, la pavetta di fratte rosa si fa solo a fratte rosa, cioè non possiamo esportarla o farla da qualche altra parte. Quindi, questo ci indica che, anche contro il sboccolamento che noi stiamo vivendo in questo momento qua, trovare dei prodotti identificativi di una comunità riesce a trattenere le persone all'interno di quella comunità e dargli anche una possibilità economica in più di rimanere in quei territori. Chiudo dicendo che noi abbiamo strutturato per i prossimi quattro anni, come commentato esecutivo, un documento programmatico che ripercorre un po' anche quello che c'è scritto nel nostro protocollo. Oltre ad aumentare i presidi, noi vorremmo far nascere anche una rete legata alla piccola pesca, una rete legata alle comunità dell'Appellino e quindi delle aggregazioni per geografie che in qualche modo riescano a collettivizzare le istanze comuni e a prendere sulle spalle, diciamo, anche le istanze locali. E credo che anche qui il Vice Presidente non possa che essere d'accordo, anche avendo letto per esempio un suo intervento sulla filiera dell'allevamento del Montecate, che mi sembra che anche lì sia un tema molto importante che speriamo di poter sviluppare insieme in futuro, allargandolo magari in Canderoni, sono anche fiduciari della condotta di Canderoni, quindi ho un interesse specifico in questo contesto qua. Quindi ecco, concludo dicendo che ringrazio il Vice Presidente che ci ha da subito accompagnato anche con la partecipazione a Cisli in questa nostra nuova avventura associativa e quindi speriamo che da qui in poi, avendo dato anche una fornice attraverso questo protocollo, possiamo dipingere il quadro insieme e fare il bene della nostra regione. Valorizzando le comunità locali, ma anche valorizzando un senso di comunità regionale che io credo che, insomma, intorno ai citi, quando abbiamo divertito, ad esempio, mi sento chiamato in calda, nonostante non sia prodotto nei miei territori, però lo sento come un prodotto identificativo della nostra regione, quindi anche questa è una dimensione che credo vada valorizzata in qualche maniera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. scoprendo le località che noi abbiamo, i palazzi d'accoglienza, i palazzi come questo che hanno funzione costruzionale e facendo in modo che ci sia anche una posizione, anche dei luoghi, io ricordo ho cominciato a portare un compagno al castello di Frondone per parlare di agricoltura, poi sono andati a parlare di artigianato del palazzo dei principi di Carpena ho voluto scandire in tempo delle cose che facevamo costruendo una narrazione anche geografica in modo che sia la stampa, ma anche i nostri interlocutori, gli stai colpi, come si diceva oggi insieme a noi che cercano di imparare, scoprissero le cose belle che abbiamo negli altri perché il primo modo per valorizzare il territorio è il primo modo, e molto spesso a noi stessi a noi stessi mancavano tutte le informazioni dei posti che abbiamo intorno a noi a me piace molto questa collaborazione, devo dire che speriamo di farlo alla fine dell'anno e ci andremo a farlo perché il prossimo anno sarà un anno importante dove investiremo dove inizieranno le strategie anche dell'anaticoismo, del biologico, del distretto dei certificazioni e quindi abbiamo delle sfide davanti molto importanti. E mentre noi valorizziamo, almeno per le mie idee, il prodotto agroalimentare, nella sua generalità, è sempre più evidente che il prodotto agricolo non è più inteso come fatto produttivo, ma è inteso come cibo. In questo modo di vedermos sotto forma di cibo, che è la cosa più importante per l'uomo, dà un valore aggiunto. Passare da una visione agricola della produzione, ad una visione agricola della sottimistrazione, responsabilizza da tutti. Perché quello che mangiamo è determinante per la salute e immaginiamo con l'autotecnia, parliamo spesso, l'autotecnia ha impatto tantissimo nella nostra vita. La responsabilità, e noi abbiamo chiesto per esempio su questo, di poter avere gli ecoschemi al governo dove venisse valorizzato, l'agricoltore che ancora usa il pasto dei montagni, che porta ai cavalli o i rovini in montagna, a vedere un'altezza, se vuol dire un'altezza, nelle grandi stalle delle viglie o dell'armantia. Quindi la nostra è una ragione che ha delle particolarità, però se uno compra una mistecca di carne, una mistecca di chiarina, è un prodotto che il mercato, il consumatore riconosce con l'igualità, mentre una mistecca di razza IGP marchigiana non è riconosciuta. Questo perché? Perché probabilmente su alcune nostre produzioni non ci sia creduto fino in fondo, quindi dobbiamo tornare intanto a promuovere ciò che noi abbiamo. E Slow Food, per sua natura, fa proprio questo. La vita rende noto, cerca di valorizzare, crea in qualche modo un interesse, una conoscibilità dei prodotti e del cibo. Quindi è molto importante questa collaborazione, perché soltanto così noi potremo creare identità sui territori, creare dei momenti aggregativi e l'identità è l'unica cosa che tiene ferme gli uomini sulla terra. Se uno non ha più identità, si sposta, da sempre. O meglio, se uno non si identifica con la propria terra, si sposta. Quando si identifica, quando c'è un motivo importante che va al di là dei beni materiali, anche per gli aspettivi culturali, quando c'è un'identità culturale tra l'uomo e la terra, rimane sui territori. E investe, cresce, fa proliferare la propria famiglia. Quindi il prossimo anno ci attende anche una fase fielistica che vorremmo avviare, sia internazionale ma anche interna. Ci piacerebbe, il Presidente Acquaroli mi ha chiesto espressamente di organizzare qualcosa per valorizzare alcuni prodotti del nostro territorio. Così come l'eloturismo si basa principalmente su dei percorsi e dei cammini che vanno costruiti. I cammini che noi abbiamo in mente sono legati ai vitigni. Quindi per creare dei percorsi dentro il nostro territorio dove ci sono dei vitigni che possono diventare dei nuovi attivativi, sia a piedi, a cavalli o a bicicletta. Ma dentro ci devono essere anche altri contenuti. Ci dobbiamo mettere, con la scusa del vino, dentro tutto quanto. Da cominciare dalla cultura, ma soprattutto i prodotti agroalimentari e agroalimentari. E questa cosa, guardate, non si può fare in modo sbagliato. Bisogna fare in modo serio. con chi certifica, con chi ha una credibilità quando promuove un prodotto, come fa Slow Food da sempre o come fanno anche altri soggetti. Però questo per noi è davvero molto importante, questo protocollo, perché dobbiamo insieme identificare i drivers su cui costruire la strategia di produzione, sia interna che esterna. E inoltre abbiamo la sfida davanti, che non è mai capitata a nessuno, di fare i distretti del cibo. Ma non i distretti del cibo, diciamo, per poche persone. I distretti del cibo che siano davvero attrattivi, che possono avere anche risorse significative, perché per fare promozione di un territorio come le Marche, diversificato, con tante cose eccezionali, siamo insomma. Non è che si può fare con la speranza di avere insomma. Quindi noi abbiamo preparato i contenuti e questi contenuti li vorremmo condividere, per chi fa di mettere questo. Con voi, con l'Accademia Italiana della Pucina, con i soggetti che ieri credibili del territorio, con le associazioni dei sommelier, con cui abbiamo presentato altro ieri la guida del bicchiere, anche lì. Io stesso, che ho visitato tante cantine, non avevo contezza, finché non prendo in mano il libro di tutte le cantine, di quanti vini ci sono straordinari nelle Marche. Ci sono vini che partono da 12 euro, arrivano da 12 euro, nel libro dei bicchiere, dei vini, delle Marche. Quindi, vuol dire che comincia ad esserci una massa critica di produzione importante, però ne vengono visti ancora come fasi produttive. Cioè, la nostra agricoltura non si è evoluta in questo. È rimasta importante, perché ci sono dei settori importanti e significativi. Il passaggio da un fatto produttivo a un fatto di accoglienza e di incamino, come si dice, è un passaggio strategico, perché genera un valore aggiunto enorme. Oggi i nostri produttori prendono e vengono fuori, prendono e trasportano, dislocano il prodotto. Provate a pensare se il prodotto, la fichezza della venduta, al prezzo che oggi riescono a collocare sulla distribuzione, riuscissero a venderlo, trasformato e somministrato sul posto, che ha un moltiplicatore almeno in tre volte. Che cosa vuol dire, no? Vorrebbe dire che questa regione è una definita in Italia. Quindi significa che c'è un margine di crescita su questa cosa importantissima. Ma quando uno pensa alle marche, non riesce a mettere a fuoco tutto quello che si può fare come esperienza nelle marche. Perché? Perché nessuno va mai a essere insieme. C'è sempre stata un'identità locale precisa, ognuno ha fatto, giustamente, la sua evidente e giusta comunicazione, ma la regione, intesa come identità territoriale, non ha mai creato qualcosa. Cioè, chi vuol venire in vacanza deve trovare anche qualcosa di organizzato, di contestualizzato. Quindi, per questo dico, è fondamentale la significativa per chi produce, per chi promuove, per chi studia, cerca, seleziona. Perché su questo c'è non solo un margine di crescita importante, ma c'è il futuro di questa regione, soprattutto nelle aree interne. Le aree interne potranno vivere se i fatti produttivi diventano fatti di somministrazione, di intrattenimento e di accoglienza. e la svolta. Questo posto, se fosse in Val d'Orcia, la casa che guardavamo più avanti costerebbe a meno oltre cinque volte quello che lo porta qua. Perché? Perché in Val d'Orcia. Perché con quattro successi hanno creato un'identità fortissima, ma hanno investito tanto, hanno fatto marketing puro, l'identità territoriale. Dico, noi dobbiamo riuscire a fare questo. Ma non singolarmente, ma collettivamente. Questa, per lo meno, è la strategia che noi abbiamo. Dentro questa strategia, visto che non lo può fare la regione da sola, per questo c'erano i sindaci, i fondamentali corpi intermedi, sono fondamentali delle associazioni. Quindi, per queste ragioni, stiamo facendo questa strategia e per sviluppare quello che abbiamo davanti. Sapendo che ci sarà un anno molto importante e, per la parte delle risorse che più o meno si potranno prendere, passano per la capacità di progettare il futuro. E stanno progettando. Quindi, io ringrazio Slow Food per questa disponibilità e ringrazio i sindaci che sono intervenuti qui a Fraterosa, perché iniziamo a conoscere il territorio, a frequentarlo, a fare gli eventi itineranti e ad andare nei posti a dire quello che abbiamo. E a farlo anche quello che abbiamo. Perché una persona, quando si sente orgogliosa del luogo in cui è, perché si identifica, non va niente. Continua a crederci di investireci. Quindi, grazie e finiamo. Buon appetito. Grazie. 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 buonasera a tutti io ringrazio dell'invito vicepresidente che farò nei sindaco di trattarosa passando un altro e tutti voi presenti stato detto una cosa molto molto vorrebbe che poi il vicepresidente ha riferito anche qualche giorno fa in un'altra riunione sempre del settore di promozione delle nostre criticità e della nostra eccellenza economica ovvero il fatto che prima di aderire e prima di favorire piccoli progetti e piccole realtà bisogna creare un brand bisogna creare un prodotto che è un prodotto immateriale come la regione marche che sia immediatamente riconoscibile io che ho studiato a Bologna per esempio in te bisognava dire siamo sottorimidi questo è ora di chiudere questo discorso e dire siamo delle marche e siamo di questa regione e quindi ci riconoscono perché siamo artigiani per quello che facciamo per il valore dei nostri prodotti per il valore dei nostri agricoltori per il valore delle nostre eccellenze tra l'altro mi fa anche il piacere il discorso della paletta di trattarosa perché San Lorenzo di Campo questo sindaco è parte della reale ricorduzione insieme a preacola e mondale della paletta di trattarosa quindi questo è molto importante anche bisogna far capire insieme con l'associazione di categoria anche ovviamente qual è l'importanza di fare anche per esempio dei menù che siano specifici con dei prodotti tipici del territorio una piccola cosa che però grazie all'associazione di categoria si può fare molto molto facilmente perché dobbiamo far capire tutti quanti qual è quello che produciamo e qual è l'importanza della nostra regione io penso che con pochi passaggi riusciamo a fare molto quindi il mio applauso a questo protocollo che viene fatto con il suo punto è una realtà importantissima riconosciuta a livello nazionale e internazionale che può dare molto al nostro territorio e con l'opposizione visto che il vicepresidente ha detto giustamente di fare delle iniziative territoriali siamo pronti ovviamente ad accogliere la regione vicepresidente anche nel nostro territorio comunale grazie ancora e complimenti veramente a tutti i maggiori perché sta bellissima iniziativa proprio due saluti perché è stato detto tanto e mi fa piacere di queste iniziative che è perché valorizzano il nostro territorio e mi auguro che la regione anzi deve perseguire questi obiettivi perché come diceva il nostro vicepresidente vuole legare l'uomo e le persone al territorio perché se non c'è questo legame ci stanno gli spostamenti ovvio che dopo ogni epoca c'è i suoi spostamenti però muore diciamo tutta la nostra tipicità orale insieme diciamo anche questi nostri prodotti che ogni zona c'ha la sua propria picca ecco io faccio complimenti a tutti di nuovo grazie a sindaco e al vicepresidente anche grazie diciamo solo a tutti che persegue per questa valorizzazione delle nostre tipicità marchisane Sì sono Rodolfo soprattutto sono contadino e custode della sala di Faterosa questo percorso è cominciato vent'anni fa come diceva Sino ci abbiamo creduto abbiamo scommesso su una cosa che faceva quasi ridere e comunque l'abbiamo tirata avanti abbiamo creato una reale non abbiamo abbiamo voluto fare i campanilisti per cui abbiamo inserito anche parti dei comuni limitrofi e abbiamo creato un disciplinare per cercare di dare valore a quello che facevamo nel 2018 siamo diventati presidio del gruppo cosa ha significato per noi essere presidio del gruppo avere un po' di voce in più noi contadini piccoli che siamo abituati a lavorare in questi piccoli paesi in queste aree dell'interno essere presidio del gruppo significava aprirsi al mondo e questo è stato molto importante per cui benvenga questa firma di questo protocollo e in particolar modo perché qui a Faterosa grazie a tutti bene allora io direi di concludere siamo riusciti a stare a questa blog e faccio guardare le social quindi se non ci sono domande ringraziamo e mi piace davvero per i partecipanti e adesso nel prossimo anno iniziamo a dare seguito questo domanda grazie a tutti grazie 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 grazie